Bene, grazie. Come sapete la Lega, perché vi so attenti dell'attività parlamentare di questi giorni, ha utilizzato i tempi che aveva a disposizione non solamente per motivare nel merito una riforma che riteniamo dannosa, non per la Lega stessa, ma per i cittadini di questo Paese, una riforma che nel merito è estremamente centralista e distrugge le autonomie locali, ma l'abbiamo utilizzata anche per fare quel richiamo necessario alla maggioranza e al Governo di un principio basilare, ovvero quello di un confronto democratico e costruttivo all'interno del Parlamento, con la consapevolezza che stanno modificando la Costituzione autonomamente un gruppo parlamentare, che si chiama Partito Democratico, che alla maggioranza relativa all'interno della Camera, ma è minoranza assoluta all'interno del Paese. Ricordo che nelle elezioni del 2013 il Partito Democratico ha preso il 27% e un partito col 27% sta cambiando autonomamente la Costituzione di questo Paese. E allora noi abbiamo cercato di mettere in campo tutte quelle armi che avevamo a disposizione per cercare di far capire che la Costituzione si cambia in modo condiviso e anche venendo meno dei diktat del Governo, anzi doverosamente venendo meno, ma questo appello è stato assolutamente inascoltato. Addirittura credo che abbiamo superato, noi come Lega, addirittura i normali limiti che un'opposizione ha nel richiedere responsabilità all'interno dei lavori d'aula. Guarda, a noi sarebbe stato molto più comodo iniziare da subito a dire non accettiamo nulla, andiamo avanti, non vi ascoltiamo. Abbiamo cercato di ascoltare e di fare delle proposte. Purtroppo invece il dato di fatto è che il Presidente del Consiglio Renzi sta svendendo l'interesse del Paese, l'interesse dei cittadini per una sua campagna mediatica pubblicitaria. A lui non interessa cosa c'è scritto in quella riforma costituzionale, o forse solo in parte o forse non a lui, ma chi sta dietro di lui. A lui interessa esclusivamente, malgrado e a dispetto del danno che sta facendo il Paese, riuscire a fare quelle scorrazzate in aula, quelle scorrazzate in aula con qualche sorrisino non rendendosi conto di quale rischio è per il Paese una riforma costituzionale sbagliata come questa che stiamo, e che stanno, anzi ormai, discutendo da soli.